Cari amici di Opera Classica, benvenuti ad una nuova puntata di Opera Classica A.S.M.R. Stanotte leggeremo la biografia artistica del maestro Gian Paolo Pisanti, direttore d'orchestra. La leggeremo in sussurro, secondo la tecnica A.S.M.R. Gian Paolo Pisanti, direttore d'orchestra. Le sue prestazioni nelle ultime stagioni concertistiche ed opera hanno di fatto attirato l'attenzione su questo giovane talento. È considerato dalla critica tutta e dai tantissimi trionfi di pubblico uno dei migliori direttori d'orchestra della sua generazione, capace di muoversi in un repertorio molto ampio, che abbraccia tutta la musica operistica e i grandi capolavori di quella sinfonica, con gesto fluido e chiarissimo, attenzione agli organici vocali e orchestrali, memoria sorprendente e tecnica che ricorda la più prestigiosa e alta scuola italiana. Nato a Milano, compie i suoi studi musicali presso il Conservatorio Giuseppe Verdi, della sua città, diplomandosi con il massimo dei voti. Risulta vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra cui spicca il prestigioso Dimitri Mitropoulos, di Atene. Tra le tappe più importanti della sua carriera figurano La Traviata al Maggio Musicale Fiorentino, giugno 2012 Macbeth al Teatro Verdi di Trieste, marzo 2013 Turandot al Performing Arts Center di Seul, marzo 2013 Otello al Teatro Lirico di Cagliari, per l'inaugurazione della stagione 2013 Aprile 2013 Elisir Tamore al Teatro Reggio di Torino, giugno 2013 Tosca alla Royal Opera House di Stoccolma, giugno 2013 Otello al Teatro degli Arcimboldi di Milano, novembre 2013 Stifelio alla Royal Opera House di Stoccolma, febbraio 2014 Turandot al Teatro Reggio di Torino, febbraio-marzo 2014 La Bohème al Teatro Carlo Felice di Genova, aprile 2014 Madame Butterfly al Teatro La Fenice di Venezia Turandot al Teatro Lirico di Cagliari, luglio-agosto 2014 Nabucco al Teatro Verdi di Trieste, gennaio 2015 Lucia di Lammermoor a Genova, febbraio-marzo 2015 La Traviata a Stoccolma, maggio 2015 Barbiere di Siviglia al Teatro Reggio di Torino, luglio 2015 Madame Butterfly al Maggio Musicale Fiorentino, agosto 2015 Nelle ultime stagioni, molto importanti, sono stati i suoi debutti alla Semperoper di Dresda Con la Bohème, alla Deutsche Oper di Berlino, con il Rigoletto Alla Open House di Zurico, con la Bohème Al Teatro San Gallen, con Norma Al Teatro Carlo Felice di Genova, con Andrea Chenier Al Teatro Petruzzelli di Bari, con Tosca E al Festival di Peralada, con Turandot Ha inaugurato la stagione 2016-2017 dell'Iseo di Barcelona, con Macbeth di Verdi Riscuotendo un grandissimo successo personale Interpreti, Tessier, Serafin, Salsi, Seian Ha concluso la stagione 2016 con una produzione di Turandot al Teatro Petruzzelli di Bari E con una produzione di Trovatore al Teatro Lirico di Cagliari Nella stagione 2017 ha diretto Anna Bolena a Lisbona Lucia di Lammermoor a Tokyo La Bohème e la Carmen a Dresda Regoletto a Liegi E una nuova produzione di Lucia di Lammermoor al Semperoper di Dresda Ha inaugurato il 2018 dirigendo il suo primo Wagner inaugurando la stagione lirica del Teatro Petruzzelli di Bari con l'olandese Volante Tra i suoi impegni futuri della prossima stagione Figurano Dresden Semperoper La Bohème Lisbona Teatro San Carlos Capuleti e Montecchi Zurico Oper Turandot Dresden Semperoper Lucia di Lammermoor e Bohème Vienna Macbeth Barbiere di Siviglia Concerti sinfonici alla Philharmonie di Parigi Tournée in Giappone con il Teatro Petruzzelli a Tokyo, Osaka e Nagoya con Turandot e Trovatore Dal mese di novembre 2016 è il nuovo direttore stabile della Fondazione Petruzzelli di Bari In carico che ricoprerà per un triennio e che gli è stato riconfermato per altri tre anni Grazie per aver seguito questa puntata di Opera Classica A.S.M.R. Dove vi ho letto in sussurro la biografia artistica di Gian Paolo Bisanti, direttore d'orchestra La biografia di Gian Paolo Bisanti è tratta dal suo sito ufficiale www.giampaolobisanti.com Sul sito trovate la biografia anche in inglese, in tedesco oltre che in italiano Grazie per aver seguito questa puntata di Opera Classica A.S.M.R. Auguro buona salute, buon Natale e buona musica Da Serena, conduce Opera Classica Grazie a tutti Grazie a tutti